Michele De Agostini, primo giorno in arancio-azzurro e primo allenamento, firma dell'accordo questa mattina e pomeriggio subito in campo. Quali sono le tue sensazioni? Sensazioni positive, sono contento di essere venuto a dare una mano al presidente Zanutta e al Charlins e spero di mettermi in forma il più presto possibile per contribuire anche in campo. Dopo una carriera vissuta tra i professionisti, ora hai deciso di scendere tra i dilettanti per rimanere in Friuli, è una scelta di cuore questa? Oltre che di cuore è anche sicuramente familiare, così riesco a portare avanti la mia passione per il calcio, a stare vicino alla famiglia, anche perché ho avuto un bambino da pochi mesi e quindi mi sarebbe dispiaciuto andare via. Sono riuscito a conciliare le cose e speriamo che questo sia uno stimolo in più per poter far bene sempre in campo. Il campionato ci propone un girone a 20 squadre con un alto livello di difficoltà, sarà uno stimolo in più? Sì, si giocherà spesso ogni tre giorni, quindi bisogna essere preparati e pronti perché giocare ogni tre giorni non è facile, però sarà molto molto bello e penso stimolante per tutti i ragazzi mettersi in mostra e cercare di dare il meglio per questi colori. Grazie e in bocca al lupo! Crepi il lupo!